Video rapidissimo che lo metterò probabilmente su YouTube, non so ancora bene dove lo metterò, penso su YouTube, almeno lo vedono tutti gli iscritti, e sto per rimuovere Chang Bang dalla mia, diciamo, lista di video fatti, su richiesta della Caterina Tarkova alias Loris Doris, e non ho grosse motivazioni anche perché non ne ho ricevute, e semplicemente ho avuto questa richiesta, mi sono sincerato che si trattasse effettivamente della Caterina Tarkova, così ha chiesto, nessun problema, li rimuovo, con questo video fantasticamente mosso, e semplicemente vi annuncio questo perché li sto per togliere, quindi se volete darci un'ultima occhiata questo è il momento giusto, quindi niente, sentiamoci in privato per maggiori delucidazioni, ma ripeto, non ho altro da dire perché anche a me sono state date queste informazioni, quindi quello che so è quello che vi dico, quindi niente, alla prossima e a domani per un nuovo video, quello delle invenzioni.